ciao amici il tè di curcuma cannella e miele è una bevanda speciale usata in oriente combina i benefici della curcuma e della cannella che sono tanti aggiunge il miele che favorisce l'assimilazione di tutti i principi attivi è facile da preparare è un gusto aromatico e piacevole vediamo subito a cosa fa bene e come si prepara se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 7 benefici del tè di curcuma cannella e miele 1 antinfiammatorio la curcuma e la cannella contengono principi attivi antinfiammatori curcumina e cinnamaldeide queste sono le sostanze attive che contrastano le infiammazioni e hanno anche effetto analgesico il miele inoltre è un lenitivo e antinfiammatorio naturale 2 antiossidante curcuma e cannella stimolano gli enzimi del corpo che combattono i radicali liberi in più il miele è una miniera di antiossidanti 3 anti degenerativo i polifenoli e gli antiossidanti riducono il rischio di malattie degenerative gli enzimi naturali del miele hanno lo stesso effetto anti degenerativo delle cellule 4 antibatterico le catechine delle due spezie combattono virus batteri e proteggono dalle infezioni gli acidi aromatici e l'isozima del miele sono a loro volta antibatterici naturali per questo il tè di curcuma cannella e miele è utile come prevenzione anche in inverno 5 amico dell'intestino la curcuma è antifermentativa la cannella migliora la digestione il miele nutre la flora batterica intestinale in modo selettivo 6 protegge cuore e circolazione le spezie antiossidanti stimolano la circolazione e contrastano il colesterolo cattivo il miele contiene fenoli che fanno da scudo al colesterolo e aiutano la circolazione 7 aiuta a dimagrire l'effetto stimolante delle spezie attiva il metabolismo riduce l'assimilazione dei grassi il miele con gli zuccheri naturali evita il consumo di zuccheri artificiali e dannosi una tazza al giorno fornisce i nutrienti necessari a ottenere tutti i benefici ecco le dosi corrette attenzione a non superare le quantità indicate ingredienti un cucchiaino di miele un cucchiaino raso di curcuma mezzo cucchiaino di cannella fai bollire una tazza d'acqua spegni il fuoco e aggiungi le spezie lascia in infusione 5 minuti poi filtra e aggiungi il miele quando l'acqua è tiepida bevi di mattina o dopo pranzo attenzione in caso di gravidanza allattamento calcoli biliari e farmaci cardiovascolari i benefici di questo tè si sentono subito ma ancora di più nel tempo per trasformare il tuo cibo in prevenzione e cura della salute devi essere costante se ami usare le spezie guarda sul canale la playlist super spezie per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile iscriviti al canale con un clic e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano mangia sano e vivi meglio